Caro Presidente Emiliano, non è mia abitudine fare passeggiate in piazza per fini elettorali e non è quello che ho fatto domenica mattina. Spiace sentirmelo dire da chi per tanti anni, peraltro in modo egregio, ha fatto il sindaco di Bari. Ma io sono il sindaco di questa città. E' un sindaco, ha il compito di ascoltare la gente, di recepire i malumori della gente. Noi non siamo quelli che abbiamo o stiamo tradendo un accordo, al contrario, noi siamo quelli che chiediamo il rispetto di quell'accordo. Chiediamo il rispetto anche di tutto quanto è stato stabilito per garantire un sistema di emergenza e volvigenza degna di una città come Trani, una città co-capoluogo che d'estate arriva addirittura a contare 100.000 abitanti. In quell'accordo c'è esattamente questo, noi chiediamo il rispetto di quell'accordo. Non abbiamo intenzione di fare assolutamente nessun passo indietro. Quello che noi chiediamo è la tutela del diritto alla salute di una città che merita rispetto.